Sulla Torino-Lione il governo chiede sei mesi di stop all'avvio dei nuovi cantieri. La notizia durante il flash mob CTAV a Torino, le reazioni di imprese e politica. Sulla Torino-Lione il governo decide di rinviare l'avvio dei nuovi cantieri di sei mesi. La notizia è arrivata durante il flash mob CTAV di Piazza Carignano che chiede all'esecutivo di ripensarci. Vanni Caratto. Solo attività preliminari non le vere e proprie gare. E' questo il compromesso romano raggiunto tra i 5 Stelle e la Lega sugli appalti che Telt, la società incaricata di realizzare la TAV Torino-Lione, dovrebbe lanciare lunedì. In sostanza uno stop di sei mesi ai lavori, come ha chiarito il vice premier Di Maio su Facebook. Poi deciderà il governo se andare avanti. La notizia del rinvio dei bandi TAV è subito rimbalzata in Piazza Carignano a Torino, dove le donne di Sì Torino va avanti, hanno chiamato raccolta al popolo favorevole all'opera. Una lunga catena umana ha simbolicamente abbracciato il primo Parlamento d'Italia al grido di riprendiamoci le istituzioni. Io penso che dovrebbero prendere atto di ciò che esprimono i cittadini anche in questa piazza e dovrebbero finalmente mettersi a fare quello che devono, dare l'avvio a un'opera già decisa, già oggetto di legge dello Stato e di accordo internazionale. Di fianco alle donne, che con Mino Giacchino portarono più di 30.000 persone in piazza il 10 novembre scorso, molti cittadini e politici di diversi schieramenti. Il rinvio, se viene fatto, implicherà naturalmente delle sanzioni e delle penali. Mi auguro che queste non verranno pagate dai cittadini, che sono qui presenti, che chiedono invece la TAV e che li paghi Conte e naturalmente il suo governo di Tascaloro. Se rinviano, diciamolo fanno perché sanno che se no non starebbero in piedi. Dico però questo è un accordo degno di un paese, di una Repubblica delle Banane. Cioè un governo serio dovrebbe assumersi le sue responsabilità e se non è in grado di corrispondere gli va da casa. Il popolo sit-tav conta comunque di tornare in piazza domenica 17 marzo, questa volta in piazza Castello. Sono disgustato dalla situazione e dal comportamento di un governo che offende chi lavora seriamente e concretamente per dare una prospettiva di crescita al paese. Così Corrado Alberto, presidente di Api Torino e coordinatore delle 33 associazioni professionali che da ottobre si stanno battendo per la realizzazione della Torino-Lione, commenta la decisione del governo. Qui si gioca con la pelle degli imprenditori e dei lavoratori per raggiungere un obiettivo elettorale e non per il bene di tutto il paese, aggiunge Alberto in una nota. Sono felice che una situazione delicata come quella del TAV si stia risolvendo positivamente. Così la sindaca di Torino ha commentato su Facebook la posizione assunta dal governo. Questa mattina Chiara Pendino è tornata a parlare di TAV anche a margine di un flash mob in sua solidarietà dopo le minacce degli anarchici. C'era per noi Marzia De Giuli. Credo che sia, ripeto, legittimo manifestare, legittimo dire le ragioni del sì e del no. Io rimango convinta, ripeto, che l'opera non sia una priorità per il paese. Credo che sia, anzi, è certamente convinta la mia forza politica. È tornata sui temi TAV, sulla giunta pentastellata e sui rapporti con il governo, la sindaca Chiara Pendino a margine del flash mob di solidarietà. Vivere con la scorta mi ha cambiato, ha detto. Intorno a lei un centinaio di persone hanno espresso sostegno dopo le minacce arrivate alla sindaca dagli anarchici per lo sgombero dell'ex asilo occupato di Via Alessandria. È una modalità, quella che hanno usato, violenta, di un atto, invece, che era stato voluto quello di Chiara, nel rispetto delle leggi. Davanti al municipio, consiglieri e militanti del Movimento 5 Stelle, ma anche rappresentanti di associazioni di quartiere e alcuni esponenti di altre forze politiche. La solidarietà con la sindaca è scontata. Attaccare la famiglia, andare sotto a casa, davanti alla proprietà dei personaggi politici, è una scolettezza che rasenta proprio l'attesimento mafioso. Ecco, poi noi siamo abbastanza vecchi per aver visto già capitare queste cose. Si inizia con le violenze verbali, con il demonizzare, e non si sa dove si finisce.